So che cosa sei. Sei incredibilmente veloce e forte. La tua pelle è bianchissima e fredda. Hai paura? Ho solo paura di perderti. Non sono io l'essere più pericoloso. Il guantiano a Griffin Mill è stato ucciso da un animale. Un animale? Hai portato uno spuntino. Ora nessuno mi sta seguendo! Ha dei sensi sviluppatissimi e letali. Farò tutto quello che serve per salvarti. La caccia è la sua ossessione. Non si fermerà mai! Degli di vendicarti! Dignelo! Twilight.